Musica occupiamo un'area di 24 mila metri quadri e di coperto sono ben 14 mila, abbiamo raggiunto un fatturato di 24 milioni nell'anno precedente e occupiamo circa 50 addetti. Il nostro area di competenza comprende tutta l'Europa, abbiamo ora Senegal, qualche cosa negli Stati Uniti e Canada. Abbiamo portato a termine il progetto nato nel 2006 di riunire le sinergie aziendali per avere un'ottimizzazione portata al massimo. I marchi gestiti tra il settore moto e il settore ciclo ormai dovrebbero essere più di 30. Sento la necessità e la richiesta sempre più pressante del servizio. Noi ci poniamo al vertice di una catena di distribuzione, noi rappresentiamo i più grandi marchi di produzione di coperture o di catene, quali la KMC nel nostro caso, o copertoni quali Kendak. La nostra politica è comunque rappresentare delle case che siano all'avanguardia nella tecnologia. Il nostro business si rivolge solamente al B2B, onestamente non abbiamo la struttura, non abbiamo neanche mai pensato a una sezione che potesse rivolgersi direttamente al consumatore finale. Non ne nascondo però che perlomeno la parte di assistenza o perlomeno la parte di interscambio di informazioni sarà il prossimo passo su cui dovremo concentrarci.